Ferragosto 15 di agosto una giornata che tantissimi tarantini dedicheranno al mare andranno o vorranno andare all'isola di San Pietro una delle meravigliose isola Isola Echeradi nel golfo di Taranto e si accede lì con le due, con le idrovie, la Adria e la Clodia stranamente il 15 di agosto l'AMAT, Chima Mobilità AMAT, chiamatela come volete l'AMAT pare che metterà a disposizione una sola delle idrovie, non tutte e due è un fatto davvero inconcepibile, è un fatto a mio avviso illogico, assurdo perché proprio quel giorno di Ferragosto dovrebbero esserci a disposizione due motonavi essendo una giornata clou ed essendoci ovviamente un maggior richiamo per cittadini, per forestieri, per turisti, per chi ama il mare è una cosa inaudita. Ora se la notizia fosse vera ma vi dico che sembra molto fondata sarebbe un fatto molto grave a mio avviso e perciò vorrei avere spiegazioni da parte del presidente dell'AMAT, appunto Alfredo Spalluto, da parte dell'amministrazione comunale dal sindaco Melucci, dal vice sindaco Manzulli, assessore per alto allo sviluppo economico perché si parla tanto di risorsa mare, di turismo, di Taranto Capitale del Mare e poi il 15 di agosto si hanno due motonavi e pare che ne funzionerà una sola magari quella lì dovrà andare avanti e dietro e quindi dovrà moltiplicare le forze quando invece con due motonavi avremmo avuto certamente un servizio più agevole e migliore per i fruitori. Ma è possibile che a Taranto il 15 di agosto di due motonavi ne venga messa a disposizione una sola? Cosa sta accadendo? Qual è il motivo presidente Spalluto? Qual è il motivo? Lo ripeto sindaco Melucci, qual è il motivo assessore e vice sindaco Manzulli? Ma voi parlate di mare così tanto per sciacquarvi la bocca? Signori, tutta Italia deve sapere, tutto il mondo deve sapere che a Taranto probabilmente il 15 di agosto funzionerà una sola idrovia. succede solo a Taranto. Poveri tarantini, poveri turisti. Ma si può amministrare la città in questo modo? Io voglio che ci sia un'azienda che gestisca le idrovie, che gestisca i collegamenti per San Pietro che possa dare davvero il massimo. E se questo massimo l'AMAT non può fornirlo? Beh, pazienza. Morto un papa se ne fa un altro. Si affida il servizio idrovie ad un'altra azienda che sappia però offrire un servizio pienissimo e al massimo, soprattutto il giorno di ferragosto. Chiedo troppo? Grazie a tutti.